Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una lente mezza sfera di vetro di ottima qualità. È valida per leggere giornali, libri e riviste. È perfetta su superfici piane. Quindi trova l'utilizzo ideale per la lettura. Può essere utilizzata anche per l'osservazione di francobolli e di monete. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto, grazie. 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 Grazie a tutti